Consiglio regionale monotematico dedicato all'autonomia differenziata. Confronta tutto campo dell'Assemblea del Centro Direzionale sulla proposta dell'Esecutivo Nazionale, nota come Bozza Calderoli. Sentiamo i consiglieri di maggioranza Massimiliano Manfredi e Valeria Ciarambino. Va ritirata perché invita la Campania e le altre regioni a partecipare ad una gara completamente truccata su cui la Campania e altre regioni non hanno una possibilità su un miliardo di vincere. Il tema non è quello dell'aumentare le competenze di governo e la sfida del governo che non ci spaventa, ma quello di sovvertire un meccanismo che tende a cristallizzare il divario che c'è tra una parte del paese e un altro e poi dopo se non si risolve questo divario è normale che la gara che ne viene fuori viene truccata. È impensabile poter fare questo senza i LEP come è impensabile, l'ho detto pochi minuti fa, introdurre i LEP in un articolo in finanziaria senza fare un tavolo sui fabbisogni e i costi. La proposta che viene fuori oggi dal Consiglio regionale è anzitutto di ritirare la bozza Calderoli che è inaccettabile per come è formulata, ma anche di informare la cittadinanza sui rischi che il Sud corre se questa autonomia differenziata dovesse andare avanti perché questa non può essere una battaglia di pochi, deve essere una battaglia di tutti. Un testo non da bocciare ma da limare per Alfonso Piscitelli, espressione di Fratelli d'Italia che in Consiglio regionale è opposizione e a Roma è forza di governo. Sentiamo. Va migliorata e vanno stabiliti innanzitutto degli contrappesi che possono in qualche modo non creare le condizioni che poi una volta che non si approvano più i LEP si parte e si rimane nella spesa storica. Questo non va bene. Quindi l'ho dichiarato in Consiglio ma ho dichiarato quella che è la volontà non di Alfonso Piscitelli, quella che è la nostra posizione di partito nazionale e di governo sulla quale non disconosciamo gli accordi che sono stati fatti in campagna elettorale su questo regionalismo ma che va attuato insieme alla riforma del semipresidenzialismo per tutelare uno Stato e per poi dare alle regioni dal punto di vista delle cose che chiedono anche la possibilità di poterle realizzare. Non lasciando indietro nessuno.